In un post del blog del mio sito ho scritto che non vado mai in vacanza e questo ha suscitato un sacco di polemiche perché ci sono state persone che mi hanno detto ma sembra che non puoi andare in vacanza, non devi dire così. In realtà ciò che volevo dire è che quando una persona veramente ama quello che fa, qualunque cosa faccia, non sente l'esigenza di staccare, proprio di andare via da ciò che fa ogni giorno. E quindi in realtà anche la vacanza diventa un po' un momento di continuazione della sua vita e la sua vita è un momento di continuazione della vacanza. E poi ci sono tanti modi per rilassarsi.